L'alluvione e l'acqua alta che in questi giorni sta affliggendo il centro storico di Venezia non sta rispermiando neanche il santuario di Santa Lucia dove è custodita la sacra teca con il corpo della martire siracusana. Le eloquenti immagini che vediamo e che riportano lo stato della chiesa che si trova in Campo San Geremia a due passi dalla stazione ferroviaria di Venezia sono la prova di come l'acqua alta e le continue preoccupanti maree stiano mettendo a dura prova la città lagunare. Nessun pericolo per la teca con all'interno il corpo della Santa Siracusana che per via dei lavori di ristrutturazione in corso presso il santuario è stato messo in sicurezza. Il livello dell'acqua alta di 1,87 m e di 1,51 m raggiunto nei giorni scorsi ha allagato lievemente il pavimento del santuario che ha l'ingresso in Campo San Geremia accanto alla sederai del Veneto mentre nella parte retrostante nella cripta si affaccia sul Canal Grande. La parte pienamente allagata si riferisce alle sacristie inferiori del santuario. Il parroco della chiesa di Santa Lucia Don Gian Matteo Caputo ha disposto la limitazione dell'apertura della struttura che ospita il corpo di Santa Lucia in coincidenza con le alte maree quindi dalle 9 alle 11.45. Ci sarà la totale chiusura. Il corpo della Santa è monitorato da telecamere e sensori che sono collegati alla vicina sede del commissariato della Polizia di Stato del Sestierre di San Paolo per cui ogni emergenza viene comunicata alle autorità in tempo reale. Numerosissime sono state le attenzioni di solidarietà aggiunte al profilo Facebook del santuario di Santa Lucia da parte dei siracusani sparsi in tutto il mondo e da quelli che risiedono in Sicilia e nella nostra città. Grazie